Per quanto riguarda questa problematica che poi in effetti è qualcosa che da anni sento sempre dire ad ogni campagna elettorale. Ognuno ha una soluzione, ognuno ha una ricetta ma non è stata mai attuata. Materialmente bisognerebbe parlare, avere un confronto con i commercianti a far sì che loro insegnino al politico di turno di quali cose hanno bisogno in quel momento perché la ricetta valida per tutte le stagioni non esiste mai. E chi è convinto di questo è convinto solamente di essere un saccente. Materialmente il confronto con il popolo, il confronto con gli operatori commerciali in quel momento di che cosa si ha bisogno? Di una pubblicità che non si paghi troppo? Di una sovvenzione? Di che cosa? Di la viabilità? Ma certamente noi abbiamo avuto il restringimento della gareggiata addirittura. Quali parcheggi sono stati creati? Noi teoricamente, secondo il progetto stirato tanto tempo fa prima della realizzazione, tutto il corso del Colano doveva essere assenso unico, zona ZTL. Figuratevi un poco che cosa sarebbe stato. Già in un mortorio, figuratevi che cosa sarebbe stato ora. Ed ora è assenso unico alternato, vedetevi i segnali. Non ci avete fatto caso, ma così è. Ma certamente non l'abbiamo voluto noi questo. Certamente non è buonsenso questo. E allora un minimo di buonsenso è che cosa dire di più? Dire semplicemente guardare quali sono i problemi del momento, cercare di risolverli secondo, mettendo da parte i compari d'appalto prima di tutto. E ho finito, perché ci mancano solamente tre secondi e non voglio stare nel tempo. Noi il confronto l'abbiamo fatto in questi due anni e mezzo. Abbiamo fatto attività sul territorio, queste attività hanno portato a strutturare un programma. Questo programma si basa fondamentalmente proprio sul turismo. Quindi la prima domanda c'entra proprio nell'obiettivo. La riorganizzazione della viabilità per noi deve andare a senso unico. Ma deve andare a senso unico via panoramica, costo Italia. Quello è il senso unico che vogliamo noi. La ZTL fuori al MAV, ZTL a via Pugliano. Non succederà più che un'amministrazione, forse circa sorda e muta, consente agli autobus di Gran Turismo fermarsi a via Alveo, scendere direttamente, andare nel parcheggio degli scavi e in quel parcheggio far scendere i turisti, far visitare gli scavi, far risalire di nuovo nel pullman e fargli andare via. Questo non succederà più come non succederà più per il Vesuvio. La città non è vissuta dal turismo. È una tappa e per noi non deve essere più una tappa ma una location. Per fare sì che diventi una location ha una necessità il colano. Avere i posti letto e coordinare tutto assieme per vendere un prodotto come location. Ma il turismo si basa non solo sull'offerta. Noi abbiamo gli scavi e il Vesuvio e le ville vesuviane che ci hanno dato la natura. Il Vesuvio ce l'ha dato Dio. Gli scavi e il Vesuvio. Quindi abbiamo qualcosa che già c'è. Politicamente noi dobbiamo offrire altro. Dobbiamo creare altri percorsi. Creare un percorso pedonale per via panoramica, creare un percorso del vintage appena finiscono i lavori a Pugliano, sempre se li finiscono. E creare un altro percorso a via Trentola. La creazione di quel percorso di via Trentola è fondamentale perché va a riqualificare quella zona, la riqualifica con un valore anche artistico in quella zona, che è una zona storica. La nostra idea si basa fondamentalmente sulla sicurezza della città. Il turista vuole sicurezza, offerta e non vuole solo la classica offerta turistica degli scavi o del Vesuvio, ma vuole anche un'offerta di tutto il resto della giornata. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. e diventa una sorta di compartimento stagno. Questo è l'impegno che assumiamo, questo è l'impegno che porteremo avanti con la mia amministrazione. Grazie. Il turismo in questa città è stato considerato sempre un problema e mai una risorsa. A Del Colano ci sono circa un milione di turisti l'anno e purtroppo in questa città non camminano mai a piedi, sono quelli che vengono con la circunvesuviana. A ragione chi mi ha preceduto, i turisti finalmente dovranno camminare a piedi e creare economia, i pulmoni dovranno arrivare vuoti nel parcheggio degli scavi, i turisti dovranno scendere a piedi lungo la via del commercio che è via 4 novembre e poi dovremmo valorizzare il turismo mariano, il turismo religioso perché soltanto così, attraverso flussi turistici che prevedono il mercato di Pugliano, noi riusciremo a garantire il rilancio di quello splendido mercato che è il mercato che è la nostra storia. Il biglietto unico è importante ma è ancora più importante garantire ai turisti sicurezza in questa città, sicurezza in questa città perché dove c'è turismo c'è sviluppo, dove c'è sviluppo c'è lavoro, dove c'è lavoro non c'è criminalità e poi non esiste una città turistica vera senza parcheggi e la mia amministrazione si impegnerà affinché ogni luogo turistico abbia un parcheggio adiacente e poi ci dovrà essere la wifi per i turisti perché i turisti in questa città si devono sentire a casa propria, soltanto così noi valorizzeremo il turista, noi valorizzeremo il turista e garantiremo agli ercolanesi una mentalità turistica, i nostri giovani dovranno vivere di turismo, noi dovremo sentire sulla nostra pelle una ferita ogni giovane che va via perché grazie al turismo, grazie alle bellezze che hanno individuato chi mi ha preceduto, noi dobbiamo fare in modo che ogni giovane di questa città possa aspirare ad essere ricco in uno dei posti più belli del mondo. Camminare a piedi, ieri mattina alle 10, verso le 10 del mattino una turista inglese a via 4 novembre si è spezzata una gamba poiché è caduta in una trappola presente sui marciapiedi di via 4 novembre, questa è la fotografia dello stare attuale, io invito tutti a distinguere tra i fatti e le chiacchiere, l'attuale amministrazione ha determinato questo tipo di condizioni, i pochi turisti pazzi che intendono passeggiare per la nostra città sono considerati ostili, sono considerati ostili, è vergognoso, è vergognoso, facciamo di tutto per allontanare i turisti dalla nostra città, facciamo di tutto per allontanare i turisti dalla nostra città. Allora guardiamoci negli occhi, i fatti ci dicono che chiunque ha governato fino adesso negli ultimi 20 anni ha determinato delle condizioni ostili per il turista, dobbiamo avere la capacità, la forza, l'entusiasmo, l'energia per cambiare completamente e radicalmente questo approccio, il turista deve essere una risorsa tutelata, una risorsa preziosa per creare sviluppo, ricchezza e opportunità per tutti, sviluppo, ricchezza e opportunità, mettendo a sistema quelle che sono le nostre risorse, le nostre capacità istituzionali e le nostre capacità imprenditoriali. Dobbiamo avere la capacità di creare spazi per poter parcheggiare comodamente in città, è assurdo che per Ercolano si può girare solo con motorino, non è possibile, non c'è la possibilità di ospitare i nostri turisti in maniera comoda e fruibile. Allora cambiamo radicalmente l'approccio e guardiamo avanti con una soluzione completamente diversa. Grazie.